Pandemia, clima e gas. Tre crisi create artificialmente per comandare i popoli. Il lockdown, la rinuncia al combustibile fossili e le sanzioni alla Russia ci stanno portando al tracollo economico e sociale, favorendo così la deriva totalitaria di Eugenio Capozzi. Un legame strettissimo di continuità logica e causale connette la gravissima crisi energetica nella quale oggi ci troviamo, con le politiche di transizione ecologica, le restrizioni e coercizioni pandemiche, la guerra russo-ucraina. La massiccia accelerata riduzione dei combustibili fossili, non compensata da fonti alternative e competitive, e la strozzatura drammatica della domanda generata da lockdown, chiusure, lascia passare vaccinali, seguita da una improvvisa ripresa a partire dal 2021, hanno prodotto una sproporzione colossale, innaturale, tra le materie prime disponibili e le esigenze dei paesi industrializzati. Le sanzioni adottate da G7 e Unione Europea verso il gas russo, sebbene da esso quasi tutta l'Europa continuerà ad essere dipendente ancora per anni, hanno dato il colpo di grazia a una situazione già difficilissima, mettendo bruscamente i paesi del vecchio continente davanti allo spettro del razionamento, della paralisi economica, di una recessione catastrofica. Ma cosa hanno in comune questi tre fenomeni? Decarbonizzazione, lockdown, sanzioni a mosca? Il fatto di non essere calamità piavute dal cielo, eventi naturali o imposti da circostanze esterne, bensì, al contrario, decisioni consapevoli delle classi politiche, da loro assunte in piena responsabilità. Decisioni prese come se fossero ineluttabili, come se non ci fossero alternative. Ma non era, e non è vero. Si tratta invece di scelte fondate su dogmi ideologici. Se i governi occidentali hanno deliberato di tagliare drasticamente i combustibili fossili, a rischio di lasciare i loro popoli senza energia, industria, collegamenti, ciò è avvenuto esclusivamente perché quei governi hanno propugnato come una verità apodittica la tesi indimostrata, indimostrabile, largamente confutata da teorie e fatti di una crisi climatica catastrofica in corso, causata dalla civilizzazione umana e più in particolare dalle emissioni di anidride carbonica. Se i governi occidentali e quelli di altre nazioni industrializzate e popolose, in particolare la Cina, hanno costretto per mesi e mesi le popolazioni a limitare ogni interazione sociale, hanno costretto alla chiusura gran parte degli esercizi commerciali e del terziario, hanno impedito la circolazione delle persone, hanno tagliato fuori dalla vita sociale chiunque non accettasse terapie di dubbia efficacia e sicurezza imposte dai poteri statali e dalle grandi multinazionali farmaceutiche, ciò è avvenuto esclusivamente perché essi hanno sposato ciecamente la tesi secondo cui un virus della famiglia influenzale rappresentasse una minaccia pari a quella delle pestilenze dei secoli scorsi e potesse essere bloccato soltanto attraverso la clausura, l'isolamento, il congelamento della vita collettiva, la coazione all'inoculazione, più o meno universale, con i vaccini mai usati prima nella storia. Se infine i governi dell'Unione Europea hanno deciso su pressione degli Stati Uniti di adottare severissime sanzioni economiche verso la Russia e di ridurre bruscamente da un giorno all'altro i loro acquisti di gas russo, al quale per decenni si erano sempre più affidati, ciò è avvenuto unicamente perché essi hanno fatto proprio, senza quasi fiatare, la linea dell'amministrazione Biden è di vertici NATO, secondo cui la Russia putiniana è il pericolo pubblico numero uno per le democrazie occidentali. La rottura dei rapporti commerciali con esso è uno strumento necessario per fermarne le mire imperialistiche e, tale rotture in breve tempo, avrebbe mandato all'aria la sua economia. Naturalmente, come molti osservatori di economia avevano visto fin dall'inizio, l'economia russa non è andata a gambe all'aria perché le materie prime che essa non vende all'Occidente può tranquillamente venderle ad altri, a cui Mosca, tra l'altro, si è legata sempre più, mentre quelle europee stanno andando sempre più velocemente verso il baratro, tanto più quando, come l'Italia, rifiutano di adottare anche le valide alternative che avrebbero a disposizione. Eppure, politica, istituzioni, media, a canali praticamente unificati, continuano imperterriti a negare l'evidenza, a descrivere penuria e razionamento come fossero un fatto determinato dagli astri per affrontare il quale si può ricorrere solo al risparmio, alla riduzione dei consumi, a una diversificazione delle forniture nel medio e lungo periodo. E continuano a proclamare stentori che, grazie a questi sacrifici, spezzeremo le reni al brutale invasore, tacendo chiunque esprima scetticismo o critiche in proposito di essere un agente del nemico. Siamo di fronte, dunque, in tutti e tre i casi, a crisi create artificialmente dalle classi politiche, derivanti pressoché integralmente da assiomi imposti alle opinioni pubbliche violenti, volenti o nolenti, pretendendo che in merito a essi non vi sia discussione ed è legittimando radicalmente chi osa interpretarla, con una tendenza sempre più marcata, in quelle che ancora vengono definite democrazie all'abuzione del pluralismo, del government by discussion, appunto, e alla verticalizzazione autoritaria del potere. In tutti e tre i casi, con effetti che si sommano e amplificano dall'uno all'altro, si tratta di scelte che comportano impoverimento, decrescita, recessione. Soprattutto, in tutti e tre i casi, i governi tendono non soltanto a presentare crisi e restrizioni come un dato indiscutibile, ma a investire fortemente di responsabilità etica in merito, ad esse, i cittadini dei loro governati, cercando di convincerli che la radice delle crisi stesse e la condizione primaria per la loro risoluzione risiedono nei loro comportamenti privati e individuali. La tendenza crescente alla verticalizzazione del potere cerca di trovare un fondamento di consenso popolare e culturale attraverso una propaganda eticizzante che fa leva sul senso di colpa incombente sugli individui e sull'aspirazione di questi ultimi ad espiare loro peccati conformandosi a penitenze, imposte dall'alto da autorità indiscutibili fino ad essere in virtù di tali sacrifici purificati e redenti. È chiaro, insomma, che in Occidente la verticalizzazione autoritaria coercitiva, decrescitista viene innescata innanzitutto da una diffusa domanda etico-religiosa che prende la forma di ossessioni e sensi di colpa legati alle conseguenze materiali di comportamenti e stili di vita perché nasce per colmare il gigantesco vuoto lasciato dall'eclissi di un autentico sentimento religioso, quello fondato sul Dio creatore e trascendente proprio della civiltà ebraico-cristiana. Il dibattito democratico deperisce. I comandi dei governi vengono subiti sempre più passivamente. Le crisi, artificialmente provocate da miti ideologici, si susseguono a catena e vengono troppo poco messe in discussione perché quanto più avanza una secolarizzazione radicale, relativista, nichilista, tanto più il bisogno fondativo di senso, salvezza, di connessione all'origine e al destino della vita, deviato dal suo oggetto proprio, il Dio trascendente che fonda la razionalità del mondo si scarica in un pervasivo, irrazionalistico sentimento apocalittico segnato da colpe oscure e irredimibili, in superstizioni sempre più paradossali, nella credulità diffusa, in un atteggiamento ossessivo-compulsivo fondato sull'ansia di salvarsi osservando regole minuziose sulla cui fondatezza si rinuncia ormai a porsi domande. Nota di basta bugie Ruben Razzante nell'articolo seguente dal titolo Sanzioni, un po' di odestà non avrebbe guastato. Spiega perché era prevedibile l'effetto catastrofico per noi italiani delle sanzioni contro la Russia che ci rifornisce di energie senza la quale il nostro sistema imprenditoriale e il prodotto interno lordo crollano rovinosamente. Ecco l'articolo completo pubblicato sulla nuova bussola quotidiana il 6 settembre 2022. Da anni ci si batte per contrastare le fake news che finiscono per disorientare e disinformare l'opinione pubblica. Ce ne sono alcune, però, che è vietato contestare e smentire nonostante esistano indizi inequivocabili della loro inattendibilità. La più attuale riguarda l'efficacia delle sanzioni inflitte alla Russia per l'aggressione all'Ucraina. Rileggendo le dichiarazioni di febbraio e marzo dei principali leader politici italiani e anche dei vertici dell'Unione Europea, viene da sorridere anche se ci sarebbe da piangere. Si registrava infatti all'indomani dello scopio del conflitto russo-ucraino un coro unanime di voci che preconizzavano il default della Russia, la fine politica di Putin e la rapida conclusione delle ostilità in favore delle truppe ucraine sostenute massicciamente dall'Occidente. A quasi sette mesi dal primo attacco russo all'Ucraina, la situazione bellica è ben diversa da quella pronosticata dai presunti esperti di geopolitica e l'Italia si prepara a fare i conti con una delle crisi energetiche più drammatiche della storia. I nodi stanno venendo al pettine e le cifre svelano impietosamente il blef dell'Occidente che puntava su una celere sconfitta della Russia, mentre ora si trova a fare i conti con un fabbisogno di luce e gas difficile da soddisfare e con un regime potiniano sempre più solido e leader sui mercati. Forse bisognava essere più onesti con gli italiani fin dall'inizio e valutare bene il prevedibile effetto boomerang di sanzioni contro una potenza che ci rifornisce di energia senza la quale il nostro sistema imprenditoriale e il prodotto interno lordo crollano rovinosamente. Nel weekend, intervenendo al forum di Cernobbio, Matteo Salvini ha provato a evidenziare quello che è sotto gli occhi di tutti. Le sanzioni, ha sottolineato l'Irter della Lega, sono un errore e fanno male all'Europa. Non dico di abolirle, ma serve uno scudo europeo. La Russia continua a incrementare le sue esportazioni di petrolio, carbone e gas in altri stati, in particolare Cina ed India. Nei tre mesi successivi all'invasione dell'Ucraina, del 24 febbraio scorso, il regime di Putin ha ottenuto 24 miliardi di dollari da quelle esportazioni. E si è tutt'altro che isolato, come speravano invece l'Unione Europea e gli Stati Uniti. In particolare la Cina, da fine febbraio a fine maggio, ha acquistato petrolio greggio, gas naturale e carbone dalla Russia, per quasi 19 miliardi di dollari, circa il doppio rispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso periodo, l'India ha importato idrocarburi russi per 5,1 miliardi, 5 volte tanto, rispetto a un anno prima. L'incremento complessivo dell'introiti per le casse russe è pari a 13 miliardi in tre mesi. Il calo delle vendite russe all'America e all'Europa è certamente compensato, quindi, dalle esportazioni verso Cina ed India. eppure il ministro degli esteri Luigi Di Maio nel marzo scorso pre-Gustava il default russo entro poche settimane e con lui tutti gli esponenti di sinistra come Enrico Letta. che venga demonizzato Salvini perché esprime riserve sul prolungamento delle sanzioni, la dice lunga, sulla miopia di certe scelte occidentali degli ultimi mesi. Un conto è condannare le brutali aggressioni russe e solidizzare con il popolo ucraino. Altra cosa è non rendersi conto che la chiusura dei rubinetti del gas da parte di Putin prelude alla paralisi di molte attività produttive nel nostro paese e costringerà le imprese ad acquistare gas ed elettricità a prezzi molto più cari. Le bollette rincareranno vertiginosamente come già successo e senza scudo europeo si rischia davvero una crisi senza precedenti. Eppure si continua a insistere sul muro contro muro nei confronti di Putin come se questa strategia avesse sin guidato gli esiti sperati neutralizzarlo e favorire l'economia occidentale. Che il vento sia cambiato anche nel nostro paese e che ora gli italiani siano scettici sulla linea di politica estera intrapresa dal governo Draghi è testimoniato da un recente sondaggio di termometro politico secondo cui il 51,1% dei cittadini è contrario alle sanzioni contro la Russia. Di questi almeno la metà era favorevole a quelle sanzioni fino a qualche mese fa e ora ha cambiato idea. Più di un italiano su due sta prendendo atto che l'Italia è ferma e si è completamente messa nelle mani degli Stati Uniti che continuano a venderci il gas a un prezzo elevato. Nessuno scostamento di bilancio nessuno stanziamento in favore delle imprese danneggiate dal rincaro stratosferico delle bollette di luce gas. La Germania ha invece già messo sul tavolo 65 miliardi che rappresentano un paracaduto sostanzioso per evitare il fallimento di migliaia e migliaia di imprese. Stessa cosa hanno fatto Francia e Svezia. Presto anche altri Stati si muoveranno con sostegno adeguati. In Italia invece l'attuale esecutivo preferisce temporeggiare fino a quando sarà troppo tardi e non ci sarà più nulla da fare per evitare la caduta del PIL e l'esplosione della disoccupazione. Il prossimo governo che uscirà dal voto del 25 settembre si troverà una situazione drammatica da gestire anche per colpa degli errori commessi in questi mesi per i quali però pagheranno solo imprese lavoratori e famiglie. Gli organi di informazione saranno onesti e trasparenti nel riconoscerlo? di riconoscerlo? di riconoscerlo?